La polizia, su delega della procura distrettuale di Catania, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre si parla di finanziamenti per la metropolitana di Catania, si tenta di capire che fine ha fatto il tratto da finanziare Mister Bianco Paternò, snodo centrale ad oggi assente. Replica del sindaco Nino Naso dopo l'intervista all'ex primo cittadino Mauro Mangano. Da Mangano, atteggiamento che non mi aspettavo, dice Naso, ecco i documenti che provano quanto detto in conferenza stampa. Proseguono i controlli dell'ACOSET per scongiurare i furti di acqua dalla condotta pubblica. Oggi tre squadre di tecnici dell'ACOSET impegnate nelle controlli di routine hanno scoperto da Drano otto allacci abusivi alla rete idrica. Percentuale record per il comune di Biancavilla per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti nel mese di marzo raggiunta quota 66%. Dopo la nona Leopolda, il raduno annuale renziano che si tiene a Firenze nasce la volontà di costituire a Paternò un comitato civico del PD. Si chiama Dona un farmaco ed è l'iniziativa solidale condivisa da sei farmacie a Paternò con la collaborazione di tre associazioni di volontariato e della Caritas Vicariale. Buonasera ai telespettatori di Ciac Telesud e bentrovati per questo nostro nuovo appuntamento con l'informazione della sera. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato a Gravina di Catania 183 kg di marijuana, 10 kg di cocaina, 610 g di hashish e 38 proiettili calibro 9x21. Il sequestro è stato disposto a conclusione di indagini delle fiamme gialle del GICO del Nucleo di Pulizia Economico Finanziaria in un garage durante una perquisizione eseguita con l'ausilio di unità cinofile e di personale della compagnia pronto impiego. A seguito dell'operazione un uomo è stato arrestato per illecita detenzione di stupefacenti e munizioni. Il quantitativo complessivo di droga che rappresenta uno dei più rilevanti sequestrati nell'Interland di Catania, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre 3 milioni di euro. La Polizia, su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sentiamo i dettagli. L'hanno chiamata operazione Capricornus. La Polizia, su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini della squadra mobile della Questuretne hanno evidenziato l'esistenza di due gruppi criminali e fatta luce su una vera e propria alleanza tra narcotrafficanti catanesi ed esponenti dell'endrine calabresi per l'approvvigionamento di cocaina e con i palermitani per l'acquisto di marijuana. Ai vertici dei due gruppi, secondo quanto emerso dall'inchiesta della DDA, ci sarebbero Carmelo Scilio, di 45 anni, che opera nel rione di San Giovanni Galermo, e Salvatore Anastasi, di 68 anni, che vive nel popolare quartiere di Montepò. Nelle loro abitazioni la squadra mobile di Catania ha installato telecamere nascoste che hanno ripreso le attività dei due indagati. I due gruppi, seppure rivali sul mercato del traffico, avevano in comune alcuni dei fornitori di droga, tra questi per la cocaina i fratelli Domenico e Francesco Mammoliti, di 51 e 46 anni, dell'omonima cosca calabrese di San Luca. La marijuana, invece, partiva da Partinico e arrivava a Catania affidata a fidatissimi spedizionieri. Secondo l'accusa, Scilio e Anastasi erano dei grossisti che trattavano consistenti partite di droga da vendere a spacciatori di grosso calibro che a loro volta le rivendevano a dei pusher. La catena è stata ricostruita dalla squadra mobile di Catania, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del GIP messa su richiesta della DDA della locale procura, che ha disposto il carcere per 12 indagati, quattro dei quali erano già detenuti, e i domiciliari per altri otto, tre dei quali si trovavano già in carcere per altri reati. Una persona irreperibile. Durante le indagini, la polizia ha effettuato diversi sequestri di droga e arrestato dei corrieri. A casa di Scilio, la polizia ha inoltre trovato una corona, simbolo, secondo gli investigatori, della sua capacità di regnare, tra virgolette, nel settore del traffico di droga. E proprio in queste ore si sta dirigendo in direzione di Lampedusa, a quanto si evince dai tracciati radar e da quanto confermano fonti informate, la Alan Kurdi, nave di Sia Ai, con 64 migranti soccorsi a bordo. Dopo essersi diretta a nord da qualche ora, la nave ha puntato il timone verso ovest e si trova a circa 30 miglia da Lampedusa. La Alan Kurdi avrebbe chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano l'indicazione di un porto sicuro. Non ci sta il ministro dell'interno Matteo Salvini che accusa altre vite messe a rischio da una ONG straniera partita da acque libiche in direzione dell'Italia. Il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane. Mentre si parla di finanziamenti per la metropolitana di Catania si tenta di capire che fine ha fatto il tratto da finanziare Mr. Bianco Paternò, snodo centrale ad oggi ancora assente. Vediamo. Via Libera alla costruzione di otto nuove stazioni per sette chilometri di percorso. l'Unione Europea ha finanziato con 358 milioni di euro il proseguimento dei lavori per la realizzazione della metropolitana catanese. È una notizia importantissima, evidenzia il sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese che Catania aspettava da molto tempo. La Commissione europea continua Pogliese ha approvato il finanziamento per lo sviluppo della metropolitana di Catania che collegherà anche l'aeroporto di Fontana Rossa. L'ampliamento del trasporto pubblico sotterraneo con la possibilità di poter raggiungere dal centro città l'aeroporto in pochi minuti rappresenta, conclude Pogliese, un risultato rilevante che avrà ricadute benefiche per l'intera città. È nella sede dell'FCA il presidente di Ance Catania Giuseppe Piana ha incontrato il direttore generale Salvatore Fiore per discutere sullo stato dei cantieri anche a seguito della crisi della CMC. Si tratta di un'opera strategica per la mobilità e lo sviluppo della città evidenzia piana nonché per il suo turismo. Per questo è utile un confronto con gli operatori stranieri anche ai fini di una conoscenza sulle tecnologie e metodologie messe in campo dagli altri paesi. Il direttore Fiore ha confermato non soltanto il riavvio dei due cantieri Nesima-Monte Po e Sesicoro-Palestro ma anche l'attuazione della procedura concordata in prefettura per il appagamento delle imprese strategiche finalizzato alla ripartenza dei lavori. E mentre si discute del potenziamento della metropolitana a Catania si resta in attesa di capire che fine ha fatto il progetto del tratto della metro Mister Bianco Paternò. Sono trascorsi due anni dall'ultima volta che l'argomento è stato toccato dalla politica. Da allora quando si lanciò l'avvio dall'ultima fase progettuale è praticamente calato il silenzio. Ad accendere i riflettori sulla questione è oggi il consigliere comunale Antony Di Stefano che in una nota evidenzia la questione della metropolitana deve figurare con urgenza sull'agenda politica della città di Paternò. Serve una condivisione da parte di tutti perché se non si completa il tracciato che da Paternò porta all'aeroporto di Catania rischiamo di perdere la vera opportunità di rilancio per noi e per i nostri figli. Replica del sindaco Nino Naso dopo l'intervista all'ex primo cittadino Mauro Mangano. Da Mangano atteggiamenti che non mi aspettavo dice Naso. Ecco i documenti che provano quanto detto in conferenza stampa. Sentiamo i particolari. Ha chiesto una replica il sindaco Nino Naso dopo l'intervista andata in onda pochi giorni fa sulla nostra emittente. Un'intervista in cui l'ex sindaco Mauro Mangano prendeva le distanze dalle responsabilità su debiti per circa 6 milioni di euro lasciati all'attuale amministrazione. Mi sembra un ritornello abbastanza ridicolo dell'attuale sindaco che chiama debiti cose diciamo dati che debiti non sono e non riesco nemmeno a capire sinceramente a che cosa si riferisca, come faccia questi totali. In realtà i bilanci che abbiamo lasciato noi alla fine dei miei cinque anni erano tutti bilanci in ordine. Parole a cui Naso oggi replica così. Ma io rispondo con i fatti, ma non che rispondono io, rispondono i documenti. In mano ne ho alcuni che riguardano i rifiuti, che riguardano l'energia elettrica, che riguardano, li potete poi ve li farò inquadrare, che riguardano il canile comunale, che riguardano i debiti fuori bilancio per delle sentenze esecutive che ha subito il Comune e le somme del doposcolista. L'ho detto più volte, le abbiamo quantificate, più di 6 milioni di euro di debito. Mi dispiace che un ex collega, voglio dire, vieni qua con le bugie. Io nella vita mia mi sono espresso sempre con la verità e sentire quell'intervista di ieri, io non ci volevo tornare perché non mi piacciono queste cose e credo che non interessino ai cittadini le diatribe, ma questo non si tratta di diatribe, si tratta di verità, di amministrazione trasparente e di legalità. Quindi è giusto che io con le carte in mano faccia vedere a voi quanti debiti noi abbiamo pagati, quanti debiti ci ha lasciato la passata amministrazione. Una replica a tutto tondo con cui Naso ricorda anche di aver annullato la delibera del famoso project financing da 26 milioni di euro con cui la precedente amministrazione aveva pensato di cedere la gestione dei cimiteri di Paternò ad alcune società per i prossimi 30 anni. La passata amministrazione, quasi a fine legislatura, aveva svenduto i nostri due cimiteri per 30 anni ad aziende di fuori per un importo di 26 milioni di euro. Uno dei primi atti che ha fatto Nino Naso con la sua amministrazione è stato quello di annullare questa delibera. Era la delibera 389 dicembre 2016. Questo avevano fatto e questo è quello che abbiamo fatto e questo che continueremo noi a fare. Quindi cari amici miei, lo dico a tutti, volete fare uno contro tutti ma avete trovato un sindaco libero e trasparente con le spalle larghe che lavora per Paternò. Le bugie non fanno parte di questa amministrazione. E parliamo di trasporti. L'aeroporto di Catania ha comprato lo scalo di Comiso nel Ragusano. Lo ha reso noto il presidente della Camera di Commercio del sud-est Sicilia, Pietro Agen, a margine del convegno intitolato Il trasporto aereo nell'Europa delle regioni, la rete aeroportuale della Sicilia. Una buona notizia, ha detto il presidente Agen. La SAC ha acquisito l'intero pacchetto azionario dell'intersac. Un passo avanti per la rete aeroportuale. Il collegamento tra gli scali è vitale perché la situazione è pessima. È un'occasione per il sistema dei trasporti aerei, ha osservato Agen. La Sicilia non cresce senza investimenti. Mentre, ha concluso il presidente della Camera di Commercio del sud-est Sicilia, il sistema aeroportuale del sud-est può diventare la Fiat dell'isola, creando posti di lavoro con cantieri che saranno aperti. Cambiamo argomento. Proseguono i controlli dell'ACOSET per scongiurare i furti di acqua dalla condotta pubblica. Oggi tre squadre di tecnici dell'ACOSET impegnate nei controlli di routine hanno scoperto ad Adrano otto allacci abusivi alla rete idrica. Vediamo. Chi con allacci abusivi ruba l'acqua fa pagare il proprio consumo ai cittadini onesti che pagano. Comincia così una nota dell'ACOSET inviata alla nostra redazione con la quale comunica che proseguono i controlli per scovare gli allacci abusivi alla rete idrica. È proprio la giornata di oggi. Tre squadre di tecnici dell'ACOSET impegnati nei controlli di routine nel territorio ad Anita hanno scoperto otto allacci abusivi, otto abitazioni prive del condatore allacciate in maniera illegale alla condotta idrica. Gli otto proprietari degli immobili in questione adesso saranno invitati a regolare la loro posizione con l'azienda idrica. Proseguiremo ogni settimana senza sosta la lotta all'abusivismo e agli allacci abusivi. Si legge nella nota dell'ACOSET perché per pagare meno è necessario che a pagare siano tutti coloro che usufruiscono del servizio idrico. Viene ribadito inoltre che l'allaccio abusivo alla rete idrica configura il reato di furto aggravato dal ricorso al mezzo fraudolento e del reato punito anche dalla legge sulla tutela delle acque. La lotta all'abusivismo è un dovere per l'ACOSET continua la nota a difesa dei cittadini che pagano regolarmente il servizio e che pagano anche per chi ruba l'acqua. L'abusivismo, conclude l'azienda idrica, non solo è un reato ai danni di ACOSET, ma anche ai danni di tutti gli utenti onesti. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, noi torniamo subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili, grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto, scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale chiave in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ben ritrovati in studio, proseguiamo il nostro notiziario con una buona notizia che riguarda il vicino comune di Biancavilla. Percentuale record per il comune di Biancavilla per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel mese di marzo raggiunta la quota del 66%. Biancavilla è tra i paesi più virtuosi per quel che riguarda la percentuale di raccolta differenziata. Percentuale che cresce sempre più di mese in mese raggiungendo risultati enormi. Se da un lato l'amministrazione comunale usa il pugno di ferro multando chi sporca la città con discariche abusive, dall'altro si gode la percentuale record del 66% per quel che riguarda la differenziata nel mese appena trascorso, ovvero marzo. Una percentuale che pone Biancavilla oltre la soglia della legalità imposta dalla direttiva del governo regionale e che consente alla comunità biancavillese di evitare sanzioni economiche legate alla cosiddetta ecotassa. Una percentuale inoltre che pone Biancavilla ai primi posti tra i comuni più virtuosi e credibili dell'isola e aumenta anche il risparmio con un minor costo di conferimento in discarica. È certamente un risultato che ci riempie di gioia ma non ci illudiamo, spiega il primo cittadino Antonio Bonanno. La città di Biancavilla e i miei concittadini devono essere orgogliosi di questo risultato ma la strada è ancora lunga e soprattutto piena di ostacoli che non mancano mai da affrontare. Abbiamo l'obbligo di dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo dimostrando che Biancavilla ha voltato pagina nella consapevolezza di voler migliorare la vivibilità di tutti. Dopo la nona Leopolda il raduno annuale renziano che si tiene a Firenze nasce la volontà di costituire a Paternò un comitato civico del PD. Il nascente comitato che sta stabilendo la propria sede in via circunvallazione al numero 184 si chiama Ritorno al Futuro. Nell'intervista il signor Nino Russo spiega di che si tratta. Ritorno al Futuro sarà il comitato civico che fa riferimento alla Leopolda 9, l'ultima Leopolda che è stata organizzata a Firenze. Si apre quindi un comitato civico di area renziana a Paternò. Sì esattamente abbiamo raccolto l'idea di aprire i comitati civici, i comitati civici sono autofinanziati quindi ci mettiamo noi sia l'impegno sia i soldi. È un'area di centro-sinistra riformista, vogliamo fare le riforme, vogliamo che l'Italia faccia tutte le riforme possibili e immaginabili sia a livello nazionale sia a livello locale. Noi vediamo che a Paternò per esempio c'è una preteria aperta per il centro-sinistra ma ci sono pochi rappresentanti perché i rappresentanti sono esterni a Paternò. Noi vogliamo che i componenti locali paternesi si candidino e i componenti locali paternesi vengono eletti perché il problema ospedale per esempio dal nostro punto di vista è dato dal fatto che c'è un deputato regionale di un altro paese dove c'è l'altro ospedale che è Biancavilla e quindi il deputato regionale di Biancavilla non può tirare acqua al mulino di Paternò. Oggi ci troviamo in una situazione dove c'è un solo deputato regionale paternese e non vediamo molta speranza. Di sinistra c'è poco, di centro-sinistra c'è pochissimo, di riformismo non c'è nulla. Come pensate di tenere i rapporti con le altre aree del PD che comunque sono presenti a Paternò? Penso per esempio alla recente costituzione di Città Futura. Città Futura nasce con, io non voglio parlare male degli altri, però Città Futura nasce con un difetto. Alle spalle c'è l'ex sindaco Mauro Mangano. Già io personalmente non mi avvicinerai mai perché l'esperienza amministrativa è stata fallimentare, totalmente fallimentare. Quando il PD oggi a Paternò in un bacino di utenza di 30.000 elettori riesce a stento a prendere 600 voti alle ultime primarie, cioè volendo possiamo fare tutti gli discorsi del mondo, ma materialmente non possiamo fare nulla assieme. Il vostro comitato Ritorno al Futuro quanti soci, simpatizzanti comprende già. Allora noi siamo una trentina di persone che ci siamo uniti così spontaneamente e abbiamo iniziato a raccogliere le istanze della gente. E di inchiusura alcuni appuntamenti previsti per l'imminente fine settimana. I volontari dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma saranno in piazza in tutta Italia per la vendita delle uova di Pasqua come raccolta fondi. A Paternò lo stand sarà il 5, 6 e 7 aprile in piazza Umberto. Si chiama Dona un farmaco ed è l'iniziativa solidale condivisa da 6 farmacie a Paternò con la collaborazione di 3 associazioni di volontariato e della Caritas Vicariale. Vediamo. Si chiama Dona un farmaco ed è l'iniziativa promossa da 6 farmacie di Paternò insieme alle associazioni Avuls, Croce Rossa Italiana, Comitato di Paternò e San Biagio in collaborazione con la Caritas Vicariale. Obiettivo riuscire a garantire la possibilità di cura per malattie non gravi a quanti non possono acquistare farmaci a causa delle condizioni economiche disagiate in cui vivono. Si comincia sabato prossimo 6 aprile con l'iniziativa che proseguirà ogni primo sabato del mese. Confrontando le nostre esperienze con i colleghi ci siamo resi conto di quante persone non hanno la facilità di accesso al farmaco quotidianamente e allora abbiamo pensato di mettere in campo le nostre forze. Le farmacie sono una realtà presente in maniera capillare sul territorio e abbiamo il dovere e il desiderio di fare qualcosa per aiutare la popolazione. Un'iniziativa lanciata da 6 farmacie e sposata poi dalle associazioni tra le tante associazioni c'è l'Avuls e c'è anche la Croce Rossa Italiana. Ecco come si svilupperà? Allora la Croce Rossa già nel nostro territorio è da tempo che fa queste raccolte per il banco farmaceutico o comunque per aiutare le popolazioni. Si è associata a questa iniziativa ben volentieri e si occuperà nel particolare di accompagnare ovviamente tutta l'iniziativa ma soprattutto nella distribuzione poi dei buoni che gli indigenti verranno a ritirare nella sede della Croce Rossa che è in vicoli veri lo ricordo per chi fosse appunto interessato. 6 le farmacie che hanno aderito si tratta di Castro in via Emanuele Bellia 94, De Iaco in via Canonico Ren 114, Nella Scala in via Michelangelo Bonarroti 4, Di Stefano piazza indipendenza 17, Metropolitana in via stazione Circo Metnea 9 e Sacro Cuore in via Sardegna 78. Oltre alla mensa che già riscuote tanto servizio ma anche tanta attenzione nei confronti dei bisognosi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in situazioni di bisogno, questo è un'ulteriore attenzione. Penso che sia anche motivo di gioia perché vuol dire che nella nostra città oltre ai professionisti che si mettono in gioco, ai tanti volontari c'è tanto bene, c'è tanta voglia di attenzionare il bisogno della persona e anche penso che c'è la possibilità di attenzionare quel diritto alla salute che tante volte diventa un limite nel curarsi. Quell'attenzione particolare addirittura ci fa capire come per curarsi tutti hanno diritto a questo, nessuno è escluso e che benvengano attività del genere nei confronti delle persone, delle tante famiglie. Quindi anche il ringraziamento della Caritas e anche l'invito ai tanti nostri concittadini di attenzionare questi primi sabati di ogni mese per donare un po' tutti per tanto. Grazie. E domani venerdì 5 aprile la via Crucis Cittadina. La processione promossa dal dodicesimo vicariato inizierà alle ore 19 in piazza Purgatorio. L'organizzazione è affidata al coordinamento liturgico del dodicesimo vicariato. E infine il canat segreto dentro la collina di Paternò. E questo è il titolo della puntata di Il Fatto in onda da stasera dopo il Tg dell'E21. Ospite in studio sarà lo storico Francesco Giordano. Questa era l'ultima delle nostre notizie per questa sera. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.